Nel corso di questa manifestazione sono presentate diverse esperienze di Smart Cities particolarmente virtuose. Con la sua esperienza, quali sono le più credibili in Europa? In Europa ci sono soprattutto sulla sostenibilità energetica e sulla mobilità intelligente delle esperienze che ormai sono molto consolidate nel centro Europa e nel nord Europa, Amsterdam, Stoccolma, Malmo. Credo che noi abbiamo la possibilità di sviluppare dei modelli di Smart City forse non proprio identici a quelli che sono ormai prevalenti nel centro nord, molto basati su sostenibilità energetica e mobilità, ma anche esplorando altre dimensioni dei problemi sociali, quindi l'inclusione, l'aiuto delle persone in condizioni di disagio, l'educazione, il patrimonio culturale, il turismo, ma ci sono ancora molte dimensioni su cui le città italiane possono esercitarsi. Grazie